Siamo nella quarta domenica del tempo di Quaresima. Ascoltiamo ancora come nella terza domenica la proclamazione del Vangelo di Giovanni. Siamo nel capitolo terzo. In questo brano di Vangelo viene annunciato un rapporto singolare tra Dio e il mondo. Normalmente quando pensiamo alla relazione Dio-Mondo ci viene immediatamente in mente una distanza, la stessa distanza che c'è tra il creatore che quindi all'inizio è superiore alla sua creatura che è inferiore, oppure una distanza in cui c'è un mondo che pretende di fare a meno di Dio e forse anche un mondo che si oppone a Dio stesso. Il Vangelo di oggi dice che Dio vuole coprire questa distanza e c'è una forza che riesce a vincere alla distanza anche quando questa è voluta e cercata e questa forza è l'amore. Dio infatti ha tanto amato il mondo. Questa è l'espressione centrale del Vangelo di oggi. La forza che toglie la distanza e toglie l'opposizione, anzi vince l'opposizione, è l'amore. Tanto che quest'amore diventa un dono totale perché ha tanto amato il mondo. Qual è la misura di quest'amore o la forma, il volto di quest'amore, da dare il figlio unigenito. La distanza tante volte l'uomo la vive con sofferenza e allora reagisce a questa sofferenza, l'uomo reagisce con il giudizio che spesso diventa un giudizio di condanna o se la prende con Dio o cerca un colpevole. Dio invece fa il contrario, Dio vuole vincere la distanza avvicinandosi sempre di più fino a diventare egli stesso creatura umana per entrare nel cuore dell'uomo e trasformarlo dall'interno. È per questo che il Vangelo dice Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo perché questa è la tentazione. La tentazione è il giudizio, la tentazione è cercare il colpevole e la tentazione è la condanna. Dio ha voluto innanzitutto vincere questa tentazione, la tentazione di superare le difficoltà o il male condannando. La forma invece per superare la difficoltà o il male è la vicinanza estrema, la vicinanza fino al dono di sé, quella che il Vangelo oggi chiama amore. Dio ha già amato, da sempre amato il mondo perché l'ha creato, ma quando il mondo si è opposto a lui Dio si è avvicinato ancora di più, ha reagito al rifiuto con una vicinanza estrema, la vicinanza nel suo figlio. È per questo che il Vangelo ci dice, ci regala anche un'altra bellissima immagine che poi si riferisce al modo con cui il figlio ci ha amato, al modo quindi con cui il padre ama il mondo. Il testo dice così, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna e quindi non sia condannato. L'immagine è del figlio innalzato ed è tipica dell'Evangelo di Giovanni. Lo troviamo altre due volte, questo richiamo all'innanzamento del figlio dell'uomo. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo saprete che io sono e che ho un rapporto con Dio di intimità così profondo che io compio le opere del padre. Ma ancora di più nel testo di Giovanni XII sentiamo questa espressione, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Chiaramente Giovanni interpreta la morte di Gesù, la crocifissione di Gesù come innalzamento, ma perché interpreta la morte di Gesù come innalzamento, quindi come glorificazione? Perché vede nella morte di Gesù la vittoria su ogni forma di morte, su ogni forma di amicizie, quindi il massimo dell'amore di Dio e quindi dello splendore della sua volto, della sua bontà e della sua vicinanza a ciascuno di noi. E il Vangelo di Giovanni dice che questo innalzamento crea attrazione. Ecco in che modo è vinta la distanza. Quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Il figlio dell'uomo innalzato suscita la fede, si rende credibile il volto di Dio che spesso appare nascosto e appare lontano, perché chiunque crede abbia la vita eterna. L'innalzamento ci innalza, cioè ci porta a guardare in alto nonostante che noi siamo tante volte immersi nell'abisso della paura o della distanza. È bellissima questa immagine della croce come innalzamento perché se tu la guardi la tua vita si sente come portata in alto e quindi ti senti tirato fuori dalle tue negatività, dalle tue oppressioni, dai tuoi abissi. E allora il Vangelo aggiunge chiunque crede in Lui, la condizione, l'opera di Dio è questa, ma a noi è chiesto di credere in Lui. E il Vangelo di oggi ci dice in che senso si può vivere questa relazione fiduciosa con Lui, con l'innalzato. Dice così, crede in Lui chi fa la verità, cioè chi si espone a Lui, chi non si nasconde davanti a Lui, chi si relaziona a Lui smascherato di tutte le sue paure, chi cioè non continua a pensare e immaginare e a ritenere che Dio sia il Dio della condanna e non il Dio della grazia e della misericordia, come ci viene ancora con maggior forza annunciato nella seconda lettura che tratta dalla lettera di Paolo agli Efesini, dove ci dice per grazia siete stati salvati mediante la fede. Anche la fede è la grazia di poter guardare al volto di Dio, immaginandolo non come il volto di colui che ti condanna, ma come il volto di colui che ti innalza. Grazie a tutti.